Take my hand Go ahead Play my game Buon salve a tutti e come avete visto nel titolo del video ovviamente muahaha questa sarà l'apertura di un pacchetto di Diamante Perla Incontri Leggendari mamma mia da quant'è che non ne vedevo uno quindi wow mi è interessato prenderlo e soprattutto di Diaga muahaha comunque questo diciamo che è solo il pretesto del video in questo video veramente a parte il periodo che è già stato confermato volevo dirvi un paio di cose questo periodo purtroppo è un periodo abbastanza difficile in generale ma non vi preoccupate io sto benissimo sono sempre molto bello molto affascinante nessun problema di questo tipo ma no io dico di Youtube poiché insomma la cosa stanno diventando complicate quindi devo porre dei paletti affinché le cose possano ritornare al vecchio splendore spero almeno poi se non funziona ritorniamo come era prima tutto quanto e niente allora cosa volevo dirvi a proposito di questo che una cosa riguardante i video infatti ho deciso che grazie a sotto suggerimento non proprio esplicito di Pokémon IT Collection infatti mi è venuto in mente solo vedendo uno dei loro video ho deciso di cambiare la frequenza di pubblicazione dei video poiché ho deciso che visto che io ci metto per fare questi video faccio video da un sacco e niente mi piacerebbe avere un po' di feedback da parte vostra infatti più o meno ogni video deve avere più o meno e si spera ovviamente sempre di più 25 mi piace in modo tale che comunque sia io abbia un appagamento spirituale nel pubblicare questi video e una cosa che mi preme veramente tantissimo è che almeno a ogni video abbia almeno mille visualizzazioni è una cosa che mi piacerebbe un sacco e niente questi sono i due paletti che voglio porre e spero che mi rendano utile la cosa sia a me e non vi dispiace troppo a voi che dopo tutto non vi costa più di tanto quindi andiamo a noi e apriamo questo magico pacchetto non apro diamante e perla da no vabbè da vabbè il dicio si no 16 settembre che è vabbè il mio anniversario però dico questi qua incontri leggendari da un pochetto che non dovrei aprirli però veramente cose veramente fascinose allora ok 1 2 3 dovrebbe essere così il trick allora le carte le mettiamo qua 1 e 2 1 2 3 1 ok questa è la rara ok let's go with Kakuna wahaha baltoi togepi unknown l volbeat floazel bello 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 grovail stupendo 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 guardate che figo e si viper attenzione qui è un attimo fatto però si l'abbiamo messo subito a posto la reverse dovrebbe essere questa ma non ne sono sicuro e invece si è questa gore bis reverse che è una non comune e la rara è oh figo figissimo rotomolografico è veramente bello oh guardate caso proprio oggi stavo in giro sul canale di pokemon it collection hanno detto e sono andato a vedere l'apertura di questo box all'inizio come premessa hanno detto qui ci sono una delle 4 olografiche più belle in assoluto tra cui questa rotom mi ho detto vabbè sarà figo vacca vacca ma è veramente bellissimo da vivo è veramente figo wow u au bello proprio comunque un pacchetto veramente eccellente oserei dire e finiamo qui mi raccomando ragazzi come ho detto prima mettete mi piace vedete in tanti questo video soprattutto una cosa importantissima iscrivetevi ho veramente una gran voglia di tanti iscritti voglio arrivare a questi migli iscritti ce la posso fare solo grazie a voi non è che posso fare magie ne vorrei mettere 150 e compaiono no è solo grazie a voi che arrivano gli iscritti e mi raccomando continuate questo perfetto lavoro questo video è finito ho parlato fin troppo anche se è una grande carta vi saluta ciao aspettate che la devo prendere bello proprio e ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao